Siamo tornati a casa della signora Sara Neri, anche quest'anno ci illustra il suo bellissimo presepe. Quest'anno c'è stata anche una piccola sorpresa, il sindaco di Adrano che è venuto a casa sua a visitare appunto il suo presepe. Adesso ne parleremo. Signora Sara, le novità di quest'anno per quanto riguarda il suo presepe? Allora, le novità di quest'anno, intanto io ringrazio il sindaco di Adrano che è venuto a vedere il mio presepe e sinceramente sono onorati di averli qua, sia il sindaco, il vice sindaco e l'assessore. Poi praticamente le novità, come potete vedere il presepe è sempre cambiato ogni anno. Le novità sono sempre che è fatto tutto in corteccia, sia tutti i mondi, tutta la caverna, la grotta, tutte cose. C'è anche il greggio, tutto fatto in corteccia. E niente, praticamente avevo il piacere come ogni anno di fare vedere a tutti quanti i miei compaesani e ringrazio tutti voi di mi dare questa opportunità di fare vedere almeno le cose belle di Adrano e il pensiero che abbiamo noi di farlo ogni anno per compiacere tutti quanti, soprattutto la famiglia. Signora, quando hai iniziato a preparare questo presepe? Allora, di solito non si dovrebbe fare, ma ho iniziato subito dopo i morti perché ci voleva tempo per farlo e quindi piano piano, a tempo verso, l'ho fatto e con l'aiuto anche dei miei nipotini praticamente siamo arrivati a questo punto. Signora, più volte ci ha detto che per lei il Natale è la festa più importante dell'anno, insomma un periodo speciale per la sua famiglia, la sua casa diventa punto di riferimento dei suoi figli, dei suoi nipoti. Perché è importante per lei il Natale? Vogliamo dire brevemente. Sì, allora per me intanto è importante perché da piccolo ho visto tanti bimbi in collegio che non avevano nessuno. Ho pensato che da grande i miei figli dovevano avere sempre una mamma e un papà presenti. Il mio presepe praticamente l'ho visto fare in collegio a dei bambini che praticamente non andavano neanche a casa nei giorni festivi. Qua direttamente è sempre festa tutto l'anno, l'importante è che c'è la famiglia, poi il Natale è ancora meglio. Signora, c'è un'altra novità importante, quest'anno il piccolo presepe che lei ha messo a disposizione, c'è un sorteggio, la finalità è benefica, diciamo tutto. Ok, allora praticamente ho fatto questo piccolo presepe di tutta Sanapianda, niente, lo dovevo mettere nel mio presepe. Poi mia figlia dice, mamma, è un bel presepe già in sé, con luci, fondana, tutto il resto. Dice, magari lo sorteggi, dice una cosa carina, se qualcuno riesce a dargli un presepe tutto tuo. Sinceramente mi è sembrata una bella idea e una grande soddisfazione perché in 15 giorni ho venduto tutti i biglietti e quello che ancora non sanno gli altri che metteva in beneficenza. Sarà dato a una casa famiglia che si occupa una persona speciale e sinceramente sono contenta di averla conosciuta e quando prima, ora le faccio vedere, significa che in questa casa famiglia arriverà anche il Babbo Natale. Un piccolo pensiero, quello che praticamente viene ricavato dal sorteggio, un piccolo pensiero va anche a questi bambini. Quest'anno a Casaneri ha anche la sorpresa della visita del sindaco Angelo D'Agata? Sì, io ho accolto con molto piacere l'invito della signora Neri, in fondo il Natale è questo, questo essere vicini, essere comunità è un momento particolare. Poi veramente un'opera d'arte, un bellissimo presepe, una prova voglio dire di grande artigianato, voglio dire di grande maestria, è molto bello da vedersi e è anche bello a respirare questo clima con una delle tante famiglie di Adrano e è veramente bello, conto in tutto il periodo natalizio di fare anche altre visite, insomma sentirmi vicino ai miei concittadini.